altri due colpi in casa fiorentina in serata è arrivata infatti la firma e l'ufficialità dei trasferimenti in viola di rafael volski e marvin komper il primo arriva dal legge a varzavia è nato a cosienice in polonia il 10 novembre del 92 e indosserà la maglia numero 27 con un contratto che lo legherà a firenze fino al 30 giugno 2017 komper tedesco classe 85 arriva dall'offenheim indosserà la maglia numero 5 lasciata libera da olivera arriva a titolo definitivo e si è legato alla società viola fino al 30 giugno 2016 come potete vedere dalle immagini girate da viola channel volski addirittura svolto in giornata il primo allenamento in viola con lavoro aerobico in palestra sotto la guida dello staff di montella